Allora ragazzi, notizia bomba che infiamma ancora di più la vigilia di questo importantissimo Roma-Salisburgo è trapelato, anche trapelato nelle radio, che c'è stato un contatto, un importante contatto fra i Fritkin e Murigno la scorsa settimana e Murigno avrebbe chiesto la testa di Tiago Pinto, avrebbe chiesto l'allontanamento, la rimozione chiamatelo come volete, del GM, del DS, chiamiamolo GM, General Manager, direttore sportivo chiamato come vi pare, che sicuramente ha ampiamente deluto le aspettative non solo di Murigno ma anche di noi tifosi e vuole pieni poteri per restare alla Roma per quanto riguarda la campagna acquisti quindi è un punto di svolta questo sicuramente dell'avventura di Murigno a Roma che dimostra ancora una volta di avere le idee chiarissime e credo che, insomma, quello che abbiamo sempre detto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche nel mio canale ma non solo, trova, insomma, conferma il problema di questa Roma purtroppo è stato un personaggio che ha un nome e un cognome molto precisi per crescere bisogna voltare pagina